Ciao, sono Annelisa Crivì e mi alleno con Giuseppe da novembre 2018, quindi sono ormai 5 mesi. Ho cominciato con lui perché mi ha convinto la sua volontà di voler cambiare il pensiero di una persona che si vuole allenare, vuole cambiare il suo corpo. Lui non punta soltanto alla miglioria fisica ma anche a quella mentale, lui ti spiega come essere positivo, come prendere di petto il cambiamento fisico che vuoi fare e inoltre mi ispirava il suo progetto di poter allenare anche a distanza. Io sono una studentessa e lavoro, quindi ho occupata praticamente 12 ore al giorno a non allenarmi e lui mi ha permesso di migliorare grazie a un'oretta al giorno e una buona alimentazione che però non è pesante. La riesci a mantenere benissimo tutta la settimana, anche quando all'inizio se magari non ti mette i pasti liberi, non importa perché la tieni perfettamente l'alimentazione, è giusta ed equilibrata. L'acqua anche quella non è né troppa né troppo poca, ti aiuta a depurare tutto il corpo e lui ti aiuta sempre, lo trovi sempre al telefono, lo trovi in palestra, davvero molto disponibile. Quindi io consiglio a tutti questo programma perché a me ha aiutato molto, i risultati si vedono da subito e non sto mentendo perché è vero, non mi sono mai fidata di nessuno, questa volta ci ho provato e mi sono fidata di me stessa e l'istinto ha vinto e quindi lo consiglio a tutti.